benvenuti a officina stampa bar e benvenuto amico di bernardo candidato al sindaco di grotta ferrata per il centro sinistra grazie per essere qui grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori allora guardiamo un po le notizie del giorno oggi c'è anche di sport sei della roma o della lazio non si chiede tipo un'altra squadra auguri ai romanisti e complimenti alla roma che ha portato l'italia nel mondo davvero un grande riconoscimento europeo che serviva ieri a roma per il nostro calcio una festa una grande festa che ha contagiato tutti anche chi non ama e non segue non è appassionato di calcio ma infatti io mi limito lì perché poi non entro nel particolare su quello allora abbiamo il corriere della sera che purtroppo insomma un'apertura come potevamo immaginarci sugli usa e le armi shock per i 19 bimbi uccisi a scuola zeleschi accusa l'aiuto militare è insufficiente quindi ancora questo conflitto che tiene banca purtroppo è che ci auguriamo si concluda prima possibile domani l'arma segreta di Giorgia Meloni è il magistrato Nicola Gratteri questa è l'apertura politica di domani perché gli usa non faranno mai una legge contro le armi questo è un editoriale che ci spiega che le cose purtroppo non cambiano nonostante tutto e vabbè e questa è la magica apre il messaggero sulla vittoria della Roma e poi di Bernardo iniziamo un attimino a commentare purtroppo questa notizia del Texas sì è una notizia molto molto preoccupante che angoscia tutti ma la questione delle armi è una questione atapica la mia personale opinione io condivido pienamente ad esempio tutte le denunce fatte da diverse associazioni internazionali dal mondo del volontariato ma anche di molti paesi europei che hanno denunciato più volte questa libertà dell'uso delle armi che molto spesso non giustifica la difesa personale io mi associo ad esempio ai grandi appelli che ha fatto Papa Francesco una figura morale autorevole internazionale dice grazie alla diffusione di queste aziende di armi poi si facilitano le guerre in qualche modo dietro alle guerre ci sono degli interessi economici molto spesso piazzare le armi, venderle e aumentare il business e questo è un male quindi bisognerebbe individuare tutti gli strumenti che gli stati democratici possono avere nell'individuazione di leggi ma anche di spinte da un punto di vista morale affinché questa situazione cessi o quantomeno venga arginata devo dire che uno spunto di riflessione sul tema ce lo dà stavolta domani con l'editoriale di Mattia Ferraresi che sostanzialmente dice per avere delle armi anche insomma di un certo tipo basta avere 18 anni per bere una birra, giriamo, facciamo vedere l'editoriale di Mattia Ferraresi per bere una birra bisogna averne 21, un bicchiere di birra poi termina l'editoriale così l'insolubile tragedia americana delle armi abita in quella zona d'ombra della modernità in cui la liberazione del controllo degli altri confina con la dittatura dell'io insomma è quello che un po' commentavi tu sì purtroppo Zelensky, guerra, Russia, Ucraina tiene banco da diverso tempo le solide frasi che ci troviamo a dire purtroppo dopo il covid pure la guerra adesso sono difficoltà pensi che armare ancora l'aiuto militare è insufficiente dice Zelensky questo è un grande dibattito politico innanzitutto la grande preoccupazione è a livello mondiale per questa guerra che ormai dura da oltre quasi 100 giorni sono la popolazione ucraina è versa in condizioni di precarietà qualche giorno fa anche ieri si è parlato di questa possibilità di corridoi umanitari la primaria situazione ora è favorire a livello internazionale l'apertura di questi corridoi e affrontare la questione della guerra attraverso un'azione diplomatica che vada oltre gli interessi di parte questo è necessario al di là delle posizioni che le varie forze politiche hanno manifestato anche in Italia e in Parlamento di certo noi sappiamo che l'invio delle armi non è stato finora sufficiente non è sufficiente per risolvere il conflitto il problema allora è di natura geopolitica bisogna intervenire con tutte quelle agenzie internazionali deputate alla sicurezza e alla difesa della pace la pace è un bene supremo e primario e va perseguita attraverso tutte quelle azioni diplomatiche che possono riguardare non soltanto gli attori politici ma anche attori della società civile penso in queste ore ma anche in questi mesi tutta l'azione diplomatica fatta anche dai mondi religiosi il dialogo sotto traccia di queste agenzie del volontariato di queste realtà morali che in qualche modo stanno spingendo poi verso un'azione di convergenza, di maggiore riflessione occorre un pensiero critico, occorre prudenza perché il rischio è grande ti parli di realtà morali, di queste sollecitazioni anche dal mondo civico per cambiare le cose secondo te la politica può, deve fare qualche passo indietro o cambiare direzione? la politica in senso generale è vissuta da me anche a livello locale io amo distinguere la politica come professione dalla politica come vocazione il tempo di passare dalla figura del politico come colui che vive di politica a una figura del cittadino che svolge il proprio lavoro, che ha il suo percorso di vita che si presta a pro tempo e al servizio pubblico mantenendo quell'impegno, mantenendo quell'occupazione e svolgendo momentaneamente un servizio che deve generare valore pubblico felicità pubblica, la politica deve tornare alla difesa di quel valore della qualità della vita per cui è nata, politica appunto come politikos dal greco che significa dimensione sociale, che significa poi di fatto responsabilità e noi speriamo a Grottaferrada di realizzare un progetto che mette al centro il valore pubblico e la responsabilità pubblica Amirco Di Bernardo, cosa fai nella vita? Come sei riuscito a presentarti come candidato sindaco a Grottaferrada con una realtà così ampia, con una coalizione civica e fatta di partiti politici così ampia? Nella vita sono un professore universitario, collaboro con varie università sono professore associato all'università Nicolò Fusano mi occupo di filosofia morale, filosofia della scienza ma poi collaboro anche con altri atenei italiani il punto centrale è che mi occupo da tempo di modelli del caos di modelli dell'organizzazione ma anche di etica e poi ho avuto fin da giovane questa vocazione alla dimensione associativa ho partecipato a tante forme di associazionismo poi ho ricoperto anche il ruolo alcuni anni fa di presidente del consiglio comunale dei giovani di Grottaferrada da cui è nata poi questa sensibilità alla politica che mi ha portato ad avere anche vari incarichi come per esempio quello di ex assessore ma anche altre attività a livello anche associativo nazionale Che cosa è successo lì a Grottaferrada? Insomma dopo che finisci di dirmi è commissariata lo sappiamo e si va al voto in 4? Si va al voto il 12 giugno e noi nel centro-sinistra abbiamo fatto insieme alle varie forze che animano questo progetto un percorso importante la vera novità di questa stagione politica è l'unità del centro-sinistra e questa unità è stata raggiunta con un percorso serio, lungo, lungimirante che ha messo al centro non le persone ma i programmi si è avviato un tavolo politico sui programmi, sulla programmazione, sugli obiettivi e dopo con le primarie si è scelto chi poteva essere il miglior rappresentante di questo progetto è stato fatto questo per valorizzare l'attività di partecipazione nell'ABC del nostro progetto politico c'è la partecipazione la riqualificazione dei beni inutilizzati un grande intervento strategico su Grottaferrada che da oltre 10 anni aspetta scelte coraggiose, scelte lungimiranti e per farle ed essere credibili abbiamo unito tutti dai movimenti civici alle realtà come il Movimento 5 Stelle il Partito Democratico realtà consolidate del mondo civico come la città al governo e io quindi voglio ringraziare tutte le forze che poi sostengono la mia candidatura nel centro-sinistra appunto il PD, il Movimento Civico Fare Rete che costituisce la lista del sindaco la città al governo, in particolare un grazie a Rita Consoli per la collaborazione e anche per la condivisione delle future scelte strategiche che riguardano il bene di Grottaferrada per cambiare Grottaferrada il Movimento Sostenibile che è costituito dal Movimento Grottaferrada Sostenibile quindi il Movimento Civico è il Movimento 5 Stelle Grottaferrada al centro, un movimento civico di moderati una realtà civica di moderati e poi siamo Grottaferrada, un'altra lista civica importante che anche essa coglie il campo largo moderato quindi questa proposta politica unitaria tocca il campo largo democratico progressista ma anche moderato di Grottaferrada e per questo noi abbiamo l'ambizione di proporci come progetto vincente capace anche di governare bene la città Allora, prima di commentare questa notizia che stiamo vediamo se è correttamente così Palazzo Chigi vuole coinvolgere gli italiani nel PNRR il Premier ne parlerà oggi in Consiglio dei Ministri quindi questa grande occasione del piano nazionale di ripresa e di resilienza che è importante soprattutto e vede protagoniste le amministrazioni locali con dei progetti che devono essere portati a termine per cambiare quella che è la qualità di vita delle persone anche per una rigenerazione urbana per una possibilità di vedere la propria città migliorata sotto tanti aspetti Grottaferrada sembra aver voluto azzerare un po' tutto con il commissariamento come la commenti visto che sei stato partecipe anche di tutta questa situazione politica che poi ha fatto sì che si presentassero le elezioni senza un sindaco uscente Beh, i cittadini di Grottaferrada hanno gli occhi per osservare vedono un'amministrazione che ha governato 4 anni e mezzo e che ha prodotto nulla di fatto basta camminare per la città, per le strade principali per accorgersi che il decoro è pari a zero che c'è un totale abbandono che c'è sporcizia che non c'è stata un'attenzione nelle manutenzioni fondamentali le strade sono groviere sono piene di buchi i marciapiedi versano in condizioni pietose il verde non c'è cura del verde urbano i parchi sono assolutamente abbandonati è mancata un'attenzione che riguarda la riorganizzazione del traffico e quindi Grottaferrada aveva bisogno di un cambio di un cambio di rotta e chiaramente i fondi del PNRR costituiscono per l'attuale progetto che noi stiamo portando avanti una fonte fondamentale di risorse noi abbiamo fatto un programma dove ci sono a fianco anche i tempi di realizzazione dei principali obiettivi che ci prefiggiamo e molti di queste risorse saranno reclutate attraverso il reperimento dei fondi europei dei fondi regionali e legati ai fondi PNRR sul PNRR vorrei dire che metterò a disposizione tutti i network dell'innovazione e della ricerca di cui noi disponiamo come forze politiche ma anche come storia per poter costruire un vero e proprio network in collaborazione con le università con i centri di ricerca che costituiscono questo distretto dell'innovazione tecnologica e della ricerca di cui parlò il ministro Fioramonti e che per quanto riguarda il nostro territorio vede Grottaferrata, Frascati e i più importanti centri di ricerca che confinano col nostro comune penso al CNR, penso all'ESA penso all'Università di Tor Vergata penso agli NFN penso a tutte quelle realtà che potranno offrirci una collaborazione in una nuova pianificazione della città noi abbiamo l'ambizione di fare la nuova pianificazione urbanistica in tempi brevi entro tre anni ma abbiamo anche la necessità di intervenire in modo strategico sulla ridefinizione sul fatto di ridisegnare proprio anche l'area d'ingresso della nostra città riqualificare quei luoghi che Andreotti definiva luoghi dell'abbandono e che a noi piace definire invece come ben inutilizzati ben in disuso e riqualificarli con progetti seri penso a due progetti in particolare all'ex Bazzi che noi vogliamo costruire realizzare la casa della solidarietà rivisitando il progetto dell'amministrazione Mori integrandolo però con quelli che sono i fondi già in essere del PNRR su quell'area e affidandolo quindi a tutto questo al tema del dopo di noi e quindi al coinvolgimento di persone diversamente abili che in collaborazione con delle associazioni di volontariato e del terzo settore andremo a costituire e a valorizzare una struttura ricettiva per giovani che però opera a livello della cooperazione internazionale integrando così i progetti precedenti con il progetto della casa della solidarietà e invece all'ex mattatoio intendiamo valorizzare il polo universitario riscoprendo Grattaferrata città del libro collaborando con l'università per un corso di laurea nel restauro del libro e poi sempre in quel luogo realizzare in occasione anche del millenario del 2024 una scuola di scienze religiose che abbia a cuore il dialogo con l'est, con l'oriente quindi con le chiese orientali e con tutta quella tradizione di Grottaferrata che vede Grottaferrata definita come porta d'oriente questa porterà turismo, porterà innovazione e valorizzerà il brand name di Grottaferrata anche a livello degli scambi commerciali futuri al di là della forte vocazione del turismo religioso di Grottaferrata la domanda che mi viene spontanea a fare è proprio riguardo il libro la cultura tu credi che Grottaferrata città del libro sia protagonista in questo senso oggi o che cosa si possa fare oltre a questo dialogo e fare rete che è fondamentale si sta costruendo una generazione futura rispetto al brand città del libro? il brand città del libro è fondamentale per ricostruire una centralità della cultura nella nostra città Grottaferrata non può essere pensata solo come la città dell'edilizia deve essere trasformata immediatamente attraverso logiche lungimiranti interventi forti che contengano il consumo di suolo in una città della qualità della vita ritornare città giardino ma anche città della cultura città dell'innovazione, città della conoscenza e questo lo faremo anche attraverso dei progetti mirati in collaborazione appunto con i centri di ricerca volti uno alla creazione di spazi attivi per i giovani co-working, part-up, culturali e tecnologiche quindi coinvolgerli attivamente questi ragazzi e poi pensare ad una fiera attraverso un modello a carattere completamente rinnovato nuovo modello di sviluppo, costruzione di un ente fiera valorizzazione di una fiera diffusa una fiera che possa progettare e programmare un focus specifico che è quello delle biotecnologie, delle macchine agricole dell'innovazione tecnologica e dell'agroalimentare noi dobbiamo costruire un'alleanza forte con il mondo imprenditoriale locale con la ristorazione, con le associazioni vitivinicole realizzare la casa del vino e valorizzare queste nostre qualità dentro una fiera che deve diventare la fiera dei castelli romani deve diventare quella volano che possa unire culture, attività produttive e quindi recuperare il modello, il concetto del libro dentro un progetto rongimerante che si apre però all'innovazione tecnologica noi pensiamo anche alla cura dei parchi, alla loro apertura, alla loro riqualificazione ma anche a delle attività culturali da svolgere nei parchi pensiamo ad esempio ai parchi della lettura penso al parco della rimembranza, penso al parco degli ulivi penso ad esempio al parco Scala che è sempre stato chiuso, non è mai stato aperto lì è necessario aprirli e dedicarli alla città in particolare l'importante per noi sarà anche l'attenzione agli animali alla tutela degli animali e per questo noi pensiamo di riqualificare le aree cani e di valorizzare anche quell'area cani prevista nel parco Scala che non è attualmente ben in uso e quindi noi puntiamo a riqualificare la crocca ferrata che facciamo? Prendiamo qualche caffè? Buongiorno, prendete qualcosa? Sì, prendiamo un caffè Due caffè, grazie al Jack Jack che ci ospita da tanti anni con un'informazione diciamo corretta, libera, soprattutto indipendente e ti volevo chiedere, i giovani, io ci tengo molto a questo tema anche perché quando si presentano le elezioni di amministrative cioè, beh, in questo caso devo dire, vedo una visione nel senso c'è una programmazione a lungo termine però ecco, se si affronta bene, secondo me, il problema dei ragazzi dei giovani, di come interessarli alla vita sia politica che sociale di una comunità è tanto di guadagnato sono le cronache di tutti i giorni adesso vi faccio vedere una a caso di oggi Delitto Ziliani Mieto Confessa, sì, l'abbiamo uccisa noi sono praticamente due figlie due figlie e un fidanzato che hanno ucciso la loro madre per problemi economici ecco, questi ragazzi non soltanto c'è una deriva sociale ma anche il covid, la pandemia ha portato a forti problematiche a un isolamento a non incoraggiare questa società, secondo me, non incoraggia molto i ragazzi sono assolutamente d'accordo infatti noi nel nostro programma abbiamo messo come prioritaria il rilancio del Consiglio Comunale dei Giovani che sotto l'amministrazione Andreotti nonostante i riconoscimenti del primo anno come Consiglio Comunale dei Giovani più longevo che ha meritato anche il premio della Regione Lazio questo riconoscimento nella seconda fase dell'amministrazione Andreotti il Consiglio dei Giovani ha cessato di essere attivo resta ma non è attivo e noi pensiamo di rilanciarlo attraverso anche delle modifiche a regolamento e un investimento serio sulla partecipazione partecipazione significa anche informazione significa coinvolgimento ma poi noi vogliamo istituire anche il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi che si muoverà in sinergia con le scuole del territorio allora come si risolvono gran parte dei problemi? noi dobbiamo puntare anche ad un'azione educativa cioè il Comune deve diventare vettore che metta insieme il mondo giovanile il mondo delle scuole, le vere e proprie agenzie educative di formazione noi pensiamo di collaborare con le scuole in progetti di educazione alla legalità di educazione all'affettività la partecipazione da un punto di vista delle politiche sociali prestare un'attenzione importante ai diritti alla tutela dei diritti agli uffici di prossimità agli sportelli che possano implementare il servizio di psicologia scolastica ma anche avere attenzione agli ultimi avere attenzione agli ultimi attraverso una strategica politica di valorizzazione delle case dell'abitazione per chi non ce la fa ma anche ripristinare quei progetti sani che hanno visto in passato aiutare i cittadini che non ce la fanno penso a risorse in comune che va rilanciato e poi nel dialogo con le aslocali intervenire con il progetto le piazze della salute e le varie occasioni per poter creare una sinergia di prevenzione di implementazione di tutti quei servizi che possano permettere nel nostro territorio comunale di agevolare i cittadini assisterli e coinvolgerli nelle fasi anche diagnostiche preventive e tutto questo attraverso una rivoluzione della partecipazione che passerà anche mediante un atto che faremo all'inizio proprio all'inizio della nostra amministrazione riqualificare rilanciare e istituire i comitati di quartiere i comitati di quartiere costituiscono il tentativo dell'amministrazione di ricucire le connessioni tra periferia e centro a me non piace parlare di periferia a me piace parlare di quartieri dobbiamo riconnettere il tessuto sociale della città verso progettualità che mirano la condivisione e la partecipazione quindi noi abbiamo l'ambizione anche di fare un nuovo piano regolatore attraverso un processo di reale condivisione e partecipazione con la cittadinanza ascoltare la cittadinanza significa consentire anche dargli quegli strumenti per potersi esprimere e i comitati di quartiere saranno veri e propri laboratori di partecipazione con cui noi condivideremo delle scelte alcune scelte che noi pensiamo sono anche quelle di attraverso il bilancio partecipativo e solidale di condividere con i cittadini la destinazione di alcuni beni naturalizzati come l'attuale mercato coperto e il cavallino e tutta l'area dell'ingresso della città anche delle gestioni condivise quindi scelte condivise grotta ferrata diciamo è dipinta anche oggi sul messaggero la cronaca metropoli non ce l'abbiamo di fronte è dipinta sempre come la cittadina con un pil abbastanza alto una cittadina ricca però come hai detto tu ci sono anche delle persone che hanno bisogno di essere aiutate quindi un aiuto concreto secondo te è peggiorata o è cambiata la situazione dopo la pandemia a grotta ferrata vedi che ci sono famiglie che hanno bisogno di sostegni diversi da prima ma sicuramente la pandemia è un punto di svolta è chiaro che ha segnato un momento di estrema difficoltà nonostante grotta ferrata sia considerata anche una città dei ricchi in realtà aumentano le diversità aumentano le indigenze ci sono una serie di problemi sociali da risolvere anche dei quartieri che vanno riqualificati ma soprattutto io penso anche da un punto di vista dell'ente pubblico del comune a dire alcuni dati non possiamo nascondere il fatto che la Tari per esempio sia aumentata nonostante ciò che venga detto dall'ex amministrazione puntualmente smentita dai cittadini la Tari durante la precedente amministrazione è aumentata e noi abbiamo anche però da segnalare il fatto che c'è stato fino all'anno scorso un avanzo di amministrazione di circa 6 milioni di euro allora un'amministrazione che aumenta le tasse e non spende tutti i soldi che ha un'amministrazione che da un punto di vista politico sarà certamente giudicata dai cittadini non dagli attori ma a mio giudizio è un'amministrazione che politicamente ha dimostrato tutti i suoi limiti e il suo fallimento vogliamo invece destinare queste risorse per la cultura per il turismo un nuovo infopoint individuare uno spazio per la cultura oggi a Brottaferrata ha difficoltà ad avere una sede importante uno spazio importante per i grandi convegni per le mostre artistiche noi pensiamo anche alla realizzazione di un teatro di un cinema comunale reperendo anche strutture che in questo momento il comune non ha in dotazione quindi noi intendiamo dare questo spazio da mettere a servizio per l'associazionismo culturale ma anche per quello musicale è importantissimo anche garantire alle associazioni che si occupano di musica uno spazio per poter fare le prove e poter fare le loro esibizioni ecco è importante dare un'attenzione a livello sociale e culturale per trasformare questa città in una di nuovo città giardino che realizzi effettivamente la sua dimensione attrattiva anche rispetto ai comuni limitrofi a Roma che cosa mi dici invece dell'alta vocazione anche delle attività produttive ma soprattutto delle attività di ristorazione che insistono su Grotta Ferrata è previsto un progetto per loro? assolutamente sì esistono una serie di bandi di risorse della regione anche adesso da poco pubblicati e un'infinità di opportunità per valorizzare questo network qualitativo che rappresenta Grotta Ferrata noi intendiamo dialogare ci sarà anche un confronto con queste associazioni di categoria nei prossimi giorni tendiamo a dialogare con tutte queste realtà associative che fanno il bene della città penso ai vignaioli penso alla ristorazione penso al commercio noi dobbiamo garantire servizi garantire servizi intervenire sul decoro intervenire sui parcheggi cercando di destinare alcuni parcheggi all'area bianca e a disco col disco orario per ripristinare un giusto equilibrio tra parcheggi blu e parcheggi bianchi garantire maggiore qualità e soprattutto offrire a Grotta Ferrata e a questo mondo associativo delle occasioni per poter ottenere dei finanziamenti importanti che valorizzano le attività produttive penso in particolare al progetto La Casa del Vino ma penso anche a tutti quei progetti che valorizzano una nuova frontiera una nuova frontiera importante per Grotta Ferrata che è quella dei matrimoni noi dobbiamo facilitare le realtà e le imprese locali gli albergatori le realtà importanti che fanno ricezione e turismo facilitarle come matrimoni promossi dal comune facilitare e semplificare le procedure burocratiche e valorizzare questi introiti che andranno ad arricchire le casse comunali e permetteranno a Grotta Ferrata di investire di nuovo in turismo in innovazione in attività produttive spesso gli imprenditori e le istituzioni in mondo della politica sono visti anche a volte con diffidenza un po' per la questione dei bagli un po' per non essere troppo preso insomma non lo so è proprio uno stereotipo questo invece vediamo un'apertura anche il Corriere della Sera ne parla capitale umano per le competenze un nuovo dialogo aziende istituzioni si parla di lavoro si parla di collaborazione si parla di incentivazione su questo stavi stavi dicendo delle cose interessanti anche sul settore dei matrimoni sul settore di aiutare di fare rete è possibile anche lì una sorta di apertura di una finestra di dialogo con proprio il comune stesso quindi un punto di riferimento assolutamente sì noi pensiamo di riorganizzare la macchina comunale prioritaria è la riforma della pianta organica dobbiamo superare la logica della piramide rovesciata dobbiamo dare spazio a nuovi ingressi e valorizzare chi anche ha fatto un percorso storico all'interno dell'ente penso alla promozione interna e anche alla selezione pubblica di nuovi di nuovi innesti per rinforzare alcuni settori e crearne di nuovi penso alla necessità in tempi brevi di avviare un ufficio dedicato ai finanziamenti europei che si occupi della messa a terra dei progetti della rendimentazione quindi lavoro e del recupero anche di quei finanziamenti che saranno fondamentali da destinare per la riqualificazione della città ma penso anche a rinforzare l'ufficio SUAP che collabora con le attività produttive e il mondo associazionistico locale è anche attivare uno sportello per poter facilitare i servizi e orientare le associazioni per fare finanziamenti e fare progetti di finanziamento ma anche uno sportello di servizi al cittadino oggi noi abbiamo troppe difficoltà il comune è visto come un castello inarrivabile come una gabbia d'acciaio noi dobbiamo pensare invece di renderlo a servizio del cittadino facilitando i servizi pensiamo a rinforzare l'urto e pensiamo anche di facilitare e ridurre i tempi di attesa per avere le risposte necessarie che ogni cittadino ha bisogno di riuscire nel limento burocratico intendi anche questo nel limento burocratico è la nostra parola d'ordine beh questo è importante soprattutto per chi vuole lavorare e viene incastrato in quella rete della burocrazia e poi volevo dire una cosa ancora rispetto al bilancio comunale noi pensiamo di intervenire per ridurre la pressione fiscale complessiva quindi noi siamo a favore di una riduzione della pressione fiscale per quanto riguarda le tasse comunali ovviamente ma nello stesso tempo pensiamo anche ad una rimodurazione delle aliquide in senso progressivo perché da un lato vogliamo ridurre la pressione fiscale dall'altro vogliamo anche in qualche modo andare incontro a chi non ce la fa e quindi a chi versa in condizioni di maggiore disagio e difficoltà c'è quindi questa possibilità lo permette tu stai dicendo lo stato di salute una riduzione ma anche una rimodurazione in senso progressivo delle aliquide lì dove è possibile intervenire nell'arco ovviamente dei cinque anni e questo è importante il tuo programma elettorale mi sembra di capire non è il libro dei sogni però ha una visione abbastanza in avanti si unisce interventi da realizzare in tempi brevi e interventi invece da realizzare secondo un respiro lungo ampio è possibile vedere l'intero programma al sito di Mirco Di Bernardo www.mircodibernardosindaco.it lì dove sarà possibile consultare tutti gli aspetti più specifici di una programmazione che è il frutto lo ripeto di mesi e mesi di confronto tra le forze politiche ma soprattutto tra le categorie e la cittadinanza è per me questo programma un corpo vivo che sarà costantemente in evoluzione anche rispetto alle nostre azioni e alle esigenze che via via la città ci presenterà ci sono appuntamenti di chiusura di appuntamenti elettorali ancora no la chiusura è presto ci sono tantissimi appuntamenti nei prossimi giorni anche col coinvolgimento di importanti figure del mondo delle istituzioni e dei vari partiti che sostengono questa coalizione le otto liste sono tutte le mie liste sono l'otto liste importanti civiche e partitiche e noi abbiamo questa occasione di garantire ai cittadini anche la possibilità di un collegamento rispetto a quei livelli del governo della provincia della regione e del nostro del nostro stato siamo dentro un circuito favorevole e questo progetto solito ha anche il vantaggio di poter inserire Grottaferata in un circuito di relazioni importanti verranno figure autorevoli del mondo delle istituzioni ecco questo progetto credibile è anche sostenuto a livello nazionale e a livello regionale speriamo tutti di poter fare del bene di poter trasformare questa Grottaferata in una città più integrata in una città equa in una città attenta ai bisogni dei cittadini un minuto uno per dirci la prima cosa che hai a cuore di fare qualora venisse eletto sindaco il decoro il decoro urbano avviare un global service che possa intervenire nelle cose più semplici che sono quelle che tutti i cittadini ci chiamano a fare e poi un progetto attento per liberare alcune aree io penso al quartiere di Pratone bisogna aprire la nuova strada che congiunge via Nagnina e via di Rocca di Papa penso a vari collegamenti penso alla nuova stazione che fra un anno arriverà e che dovremo collegare con il resto della città penso a questi interventi ma penso alle cose più semplici pulizia decoro apertura dei parchi attenzione al verde tutela del suolo e anche creazione di playground spazi attivi per i giovani spazi sportivi bisogna tornare a dare l'opportunità ai nostri ragazzi di poter giocare dentro il nostro comune senza ricorrere a sanzioni o essere in difficoltà libero gioco libera partecipazione è il momento della nostra chiamata e chiamiamo il senatore Bruno Astorre Partito Democratico Chiamai in ufficio al volo 06 06 06 4012 grazie ok 67 06 06 è sempre a mille eccomi senatore buongiorno 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 chiara buongiorno senatore sono Mirko ah Mirko ciao sono che sta in transizione questa mattina eh stavamo commentando ho fatto la domanda a Mirko di Bernardo qual è la prima cosa che vorrei fare qualora venisse eletto sindaco e lui dice il decoro che ne pensi di senatore assolutamente lo stato delle strade di Grotta Serrata è pietoso eh manutenzione parchi e giardini item bisogna ridare a Grotta Serrata quella bellezza che va sempre connaturata come la città giardino è una delle più belle delle città del Lazio quindi il decoro urbano le strade i marciadieti i banchi e giardini e la pubblica illuminazione sono assolutamente da essere il primo impegno che Mirko deve mettere in campo stavamo dicendo stavamo dicendo insomma è in pieno della corsa elettorale Grotta Serrata può riacquisire il suo ruolo anche facendo rete con i comuni vicini e riacquistando quella sua importanza che oggi sembra fosse spesa assolutamente grazie a Mirko di Bernardo alla coalizione ampia larga che lo sostiene non solo Mirko tornerebbe in sintonia con le amministrazioni vicine ma soprattutto con i diversi suaccomunali dalla città metropolitana alla regione Lazio la candidatura sindaco di Mirko di Bernardo garantisce un collegamento trasparente forte e importante per la città di Grotta Serrata grazie al prossimo appuntamento che riguarderà San Nilo 2025 se non vado errato vero Mirko? 2024 il millenario della Abbazia il millenario 2024 della consagrazione di Grotta Serrata il millenario della consagrazione avrà bisogno naturalmente con un grande sostegno della regione Lazio e del ministero dei beni culturali non mancherà comunque all'abbastanza di Sardino questo sostegno ma è chiaro che se c'è il Mirko capace credibile e rispettibile come il Mirko di Bernardo non sarà molto più facile e più grande ringrazio ringrazio il senatore per queste parole che mi rusingano il nostro è un impegno sincero trasparente e fattivo bisogna andare casa per casa adesso per recuperare e andare a chiedere il consenso per questo progetto credibile per questo progetto lungimirante per una Grotta Ferrada del futuro grazie 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 senatore a presto ciao ciao c'è molta insomma viva città intorno a questo progetto che hai che hai raccolto e che dirti ci auguriamo di riospitarti nuovamente magari con la veste di primo cittadino guardiamo in telecamera mai dire mai questa è la nostra speranza dipende dai cittadini la parola e a loro grazie grazie Mirko di Bernardo grazie Diara per questa opportunità e grazie a tutti per l'ospitalità e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con l'Officina Stampa Bar sempre qui da Grotta Ferrada al Black Jet ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti